La nostra spalla potete vedere quello che era un tempo l'ingresso principale della Certosa, il pronao classico con le colonne che recingeva, era l'estremità di Palazzo Butere, tutto intorno, era un parco bellissimo che attirava peraltro tutti i visitatori del Settecento e dell'Ottocento. Perché stiamo partendo da qua? Perché, come sentirete, tornerà ad essere fruibile, quindi finalmente si coronerà un sogno fra qualche settimana, diciamo regionevolmente, entro il mese di marzo, agli inizi di aprile, la Certosa riaprirà e potrà ospitare il Museo Giocattolo. Ha una storia antica, una storia antica ma anche una storia recente, sulla quale i baggeresti dovrebbero riflettere. Nel 1983 questo che è un gioiello, diciamo dell'arte del barocco del Settecento, strettamente connesso, dicevamo, al Palazzo Butere, stava per essere buttato a terra. Perché, come ben sapete, alle nostre spalle c'è la via dietro Certosa che ha ragionato un certo punto a fare una strettoia. Ci furono politici del tempo che disse, vabbè, visto che è ridotto male, in effetti era ridotto, era una stalla, buttiamo tutto a terra e non se ne parla più. Per fortuna ci furono delle, come dire, movimenti di opinione, ma anche partiti e anche uomini, vogliamo ricordare, primo tra questi l'onorevole Giuseppe Speciale, ora scomparso, consigliere comunale, deputato al Parlamento, che si battè veramente, perché il Comune acquistasse l'altra quota, che era in mano a privati. Il Comune aveva i 4 noni, i 5 noni erano in mano a privati, agli eredi di Butera, il Comune acquistò l'intero immobile e finalmente, dopo 30 anni, parliamo di vicende che, diciamo, si sbozzano nei primi anni Ottanta, dopo 30 anni questo monumento riaprirà i battenti e sarà restituito ai bagheresi. Intanto noi ascoltiamo l'intervista di Pietro Piraino, che ci parla appunto del Museo del Giocattolo. La cherelle, o chiamarla meglio l'incontro con le autorità di Bagheria, è stato parecchio farraginoso, doloroso. Un rapporto difficile che però si è appianato. Però, con l'aiuto di una serie di cittadini bagheresi ben pensanti, di politici dalla mente aperta, di uomini di cultura, eccetera, una massa di gente, la trattativa si è spianata, è andata in porto e posso, oggi sono autorizzato a dire, che abbiamo finalmente concretizzato un contratto col Comune, già registrato e tutto, di comodato d'uso gratuito per 10 anni. Ritorna quindi la Certosa alla sua funzione originaria. Generalmente la Certosa altro non era, anche al piano terreno, la foresteria dove ospitare i grandi ospiti che passavano la Bagheria e al primo piano nacque il primo famoso Museo delle Cere, antesignano di Madame Tussaudi, Grevenne, eccetera. Oggi alla Certosa torna un Museo delle Cere, un laboratorio dedicato all'aceroplastica, una sala multimediale e polifunzionale dove fare cultura per i bambini specialmente. Qualunque attività si svolgerà dentro la Certosa sarà finalizzata ai bambini e ai giovani. I tempi per, come dire, aprire i battenti qua alla Certosa? Allora, si era così ipotizzato un po' di giorni fa di poter aprire al pubblico la Certosa entro la prima decade di marzo. Questa ipotesi purtroppo pare che stia slittando leggermente perché ci sono delle difficoltà. Ancora l'impresa deve consegnare le chiavi al comune di Bagheria e quindi se il comune non ha le chiavi non le può consegnare a me. Per esempio il contratto della luce. Se non viene attivato il contratto della luce non si può fare il collaudo dell'ascensore. Io non posso portare, deve venire l'impresa, tra parentesi, deve mettere l'impianto di antifurto e videosorveglianza, cose che sono previste dalla sua intendenza altrimenti, essendo il museo sotto vincolo, io non sono autorizzato a trasferire. Siamo in vista del travardo e devo dire che da parte del sindaco, della dottoressa Favatella e altre persone del comune, fra cui Costantino Di Salvo, eccetera, le cose stanno andando avanti molto celeramente. Sì, c'è molta disponibilità, c'è molta buona volontà, molto entusiasmo. Ecco, più che altro io direi che c'è molto entusiasmo. Fra l'altro c'è da precisare pure che nel progetto di restauro della Certosa era prevista anche la costituzione di un'aula di didattica per insegnare ai giovani l'arte della ceroplastica che è legata alla Certosa sin dal Settecento e quindi io già ho progettato di fare, per contratto, di mettere un'aula di didattica, un laboratorio di ceroplastica e quindi tutto deve ruotare intorno a questi giovani. A queste convenzioni si faranno con le scuole per tramandare quest'arte. Zone franche urbane, 12-13 milioni di euro che arriveranno a Bagheria, arriveranno alle imprese bagheresi. Non arriveranno sotto forma di denaro, sotto forma di soldi, ma arriveranno sotto forma di riduzione, sotto forma di sconti sull'IRPEF, sulle varie tasse che un'impresa deve pagare. Quindi andanno ad alleviare il carico fiscale di varia natura che un'impresa deve sopportare. Dal 5 di marzo Bagheria è riuscita ad entrare, tra l'altro il progetto di Bagheria si è collocato al secondo posto regionalmente, è riuscita ad entrare, a sfruttare questa opportunità. Dal 5 di marzo si potranno fare online naturalmente le domande, i commercialisti, chi ha lavorato a queste cose, si sta attrezzando per poter far fronte alle richieste. Noi abbiamo parlato con la dottoressa Giussi Maggiore che è la portavoce di un gruppo di professionisti, di consulenti che si metterà a disposizione, che sta creando un gruppo ad hoc per poter dare una risposta a questa esigenza delle imprese. Ascoltiamo l'intervista. Un gruppo di professionisti bagheresi, consulenti fiscali, esperti della materia, si stanno mettendo assieme nel senso di fare rete per rispondere alle esigenze che porranno le imprese. Di che cosa si tratta, dottoressa Maggiore? Sì, allora, dunque l'agevolazione relativamente alle zone franche urbane, appunto come dicevi, entrerà in vigore a partire dal 5 marzo. Questa è una grande possibilità per le imprese di micro e di piccola dimensione, al fine di potere usufruire di questa agevolazione attraverso la compensazione. La ZFU è stata determinata sulla base di determinati parametri, di determinati indici sensuari. Non saranno tutte le imprese a poterci rientrare, sono soltanto determinate imprese che ricadono secondo una determinata mappatura pubblicata nel sito del comune di bagheria. Ogni commerciante, ogni artigiano può andare a individuare la propria zona per verificare se effettivamente rientra. Possono partecipare tutte le imprese, purché siano iscritte alla Camera di Commercio, quindi anche le società tra professionisti, quindi anche il professionista che è organizzato sotto forma di impresa può anche partecipare a questa forma di agevolazione. Quali sono queste agevolazioni? Diciamolo. Allora, è possibile usufruire dell'agevolazione, quindi andare a portare in compensazione le imposte come l'IRS, l'IRPEF, l'IMS, i contributi, l'IMS e dopodiché anche l'IMU. Materialmente con il meccanismo della compensazione non si tratta di un vero e proprio finanziamento, sarà determinato un importo, quest'importo sarà portato in compensazione direttamente con le imposte che verranno fuori, quindi successivamente alla dichiarazione dei redditi che presumibilmente sarà il periodo d'imposta diciamo 2014, quindi dichiarazione 2015. Andre si va a compensare la parte quindi che ne viene fuori in base a un tetto massimo di reddito di 100.000 euro e in base anche di 100.000 euro e dopodiché anche quindi in base al calcolo che si determina dall'IRS e dall'IRPEF e poi anche tenendo conto del tetto massimo diciamo del valore economico della produzione per il calcolo dell'IRAP. Questo vale per intanto l'importo che si chiede, quindi teoricamente per esempio se si chiede l'importo massimo di 200.000 euro non è detto che questo importo vada a essere compensato soltanto in un unico anno, può essere compensato in 5 anni al 100% e poi dopo il quinto anno sarà compensato con una percentuale minore, quindi dal sesto anno al 60%, il 40% a partire dal settimo anno e così via fino alla fine. Quindi diciamo che teoricamente questa agevolazione avrà una durata di circa 14-15 anni nel momento in cui ecco questo importo non venga compensato tutto diciamo in un unico, in un breve periodo, quindi come presumibilmente. Le domande si potranno presentare soltanto online e il ruolo del consulente è centrale perché col meccanismo della compensazione diciamo sarà poi il consulente a dover fare questa operazione come dire di appunto di compensazione. Allora la domanda in realtà si tratta di una semplice domanda, non si tratta di stilare nessun business plan, budget, pianificazione economico finanziaria, si tratta soltanto di una semplice domanda, è importante avere la firma digitale e la PEC, dopodiché il complesso diciamo di tutta la gestione dell'operazione sarà svolta successivamente nel caso della compensazione. La compensazione deve avvenire in F24 e presentare l'F24 solo ed esclusivamente canali telematici di Entratel e di Finsco Online, quindi la banca non può ricevere questa forma, diciamo questo F24 è compensazione perché tutto sarà gestito dall'Agenzia delle Entrate. Il ruolo del commercialista in questo caso è importante, è fondamentale, è fondamentale perché è soltanto il commercialista che può andare a verificare la fattibilità della situazione e conosce l'azienda. Ci sono dei casi in cui il commerciante, l'artigiano, insomma il nostro cliente non può partecipare alla ZFU perché non ha per esempio il DURC in regola oppure si tratta di un regime agevolato in dei minimi, quindi in determinate situazioni che soltanto noi conosciamo. La norma relativa alla zona FU che cosa copre? Copre un'esenzione di reddito di 100.000 euro relativamente ad IRPEF ed IRES, escluse sono le addizionali. Poi mette in esenzione gli immobili ai fini IMU solo ed esclusivamente relativamente agli immobili ubicati in zona franco-urbana che sono oggetto di produzione di redditi all'interno di zona franco-urbana, non l'IMU in genere. Altra cosa importante... Può essere sede di attività economica in senso proprio o di servizi. Il problema è la doppia contabilità, ci dicevate. Cosa si tratta? Che in base a dove sono prodotti i ricavi, se sono all'interno della ZFU o all'esterno, si è obbligati a tenere una contabilità separata. Perché il soggetto che potrà godere dell'agevolazione potrà avere all'interno della ZFU anche semplicemente la sede fiscale. Anche la sede, diciamo, l'attività propria produttiva potrà essere anche all'esterno della ZFU. Bisognerà avere all'interno soltanto la sede fiscale dell'azienda. Sì, però in questo caso, quando si ha solamente una sede amministrativa o legale all'interno della ZFU, i ricavi prodotti all'interno della ZFU possono godere dell'agevolazione. Gli altri no. E in questo caso è obbligatorio redigere contabilità separata da dove si devono evincere i ricavi prodotti all'interno con i relativi costi ed andare a determinare il reddito in esenzione che produrrà i benefici previsti dalla ZFU. Senta, perché vi è stata mettendo assieme? Per evitare di portare errori ai nostri assistiti e tutti coloro che fanno parte della ZFU. E comunque per fare vedere che questo gruppo di studi che si è creato, composto tutto da colleghi, commercialisti, operanti tutti nel territorio bagherese, vuole approfondire proprio per evitare di portare ad errori i propri assistiti. Il problema della piccola marineria di Porticello, ma dell'intera Sicilia e del Mezzogiorno d'Italia, è sempre un problema pressante. Grandi difficoltà, i pressi del gasolo ormai lo sapete, le limitazioni dovute alle normative europee hanno mortificato fortemente economicamente un settore che è allo stremo. Quest'anno, diciamo, pare che una certa tendenza a ridurre via via ogni anno le quote di pescato si sia in qualche modo arrestate, sono state confermate sia per il pesce spade che per il tonno le quote dell'anno precedente. Però ci sono aperte tutta una serie di questioni sulle quali i pescatori vogliono interloquire con le autorità competenti che sono, come dire, i referenti in Europa. Noi abbiamo parlato di questa situazione con Ciscio Zizio, direttore tecnico della NAPI Pesca. Siamo all'inizio di una nuova annualità di pesca, definiamola in questo modo. Regolamenti comunitari, situazione della piccola pesca, ecco cosa c'è di vecchio e di nuovo in questo scampo. È tutto vecchio, purtroppo, con qualche aggravante in più, nel senso che il nuovo regolamento comunitario che è stato già vagliato dal Consiglio dell'Unione Europea prevede che, ad esempio, le pesche speciali come quella del Bianchetto non possono categoricamente più effettuarsi nel Mediterraneo. Quindi, diciamo, quella che noi chiamiamo la neonata è completamente fuori legge, sia pescarla che venderla o anche acquistarla, mi è parto di capire. Sì, in toto, produrla e commercializzarla. Ci sono delle deroghe solo per il rossetto e il cicirello, ma il Bianchetto neonata di sarda, niente, definitivamente morte e sepolta. Il Bianchetto, quindi, è la neonata della sarda? Sì, il Bianchetto è la cosiddetta neonata di sarda. Ecco, dal punto di vista dei, come dire, di chi è addentro alla materia, sono giustificati questi provvedimenti? Assolutissimamente. Se pensiamo addirittura che i libri che hanno anticipato, sia il precedente regolamento mediterraneo del 2006, che è il nuovo, diciamo, FEAMP 2014-2020, mettono in evidenza come l'aspetto della pesca artigianale costiera, quindi la pesca tradizionale come quella al novellame di sarda, appunto, debbano essere aspetti tutelati, salvaguardati, perché incidono sulle comunità dei pescatori costieri, ma in modo prevalente. Non si capisce come, da un lato ci si vengono dette queste cose, lanciate queste direttive, dall'altro invece l'UE va in tutt'altra direzione. E' chiaro che... Sono 30-40 giorni in cui la piccola pesca, un ramo della piccola pesca, riesce a trarre un reddito significativo di impresa. Sì, la pesca veniva autorizzata per 60 giorni, praticata per non più di 30, se ci togliamo i giorni di maltempo, i sabbati e i festivi in genere, ma in quei due mesi, dove si praticava per non più di un mese, si dava il respiro per almeno 3-4 mesi ai nuclei familiari dei pescatori. Adesso ci è stato completamente negato. Dall'altro invece si continua a girare la vite sui controlli sul regime vessatorio, si sono quadruplicate le multe grazie a quello che si chiama piano d'azione, già in attuazione dal 1 gennaio 2014 e già vagliato a livello europeo e in più si sta cercando di fare un decreto ministeriale per individuare la flotta da autorizzare alla pesca del pesce spada. Parliamo del pesce spada, i grandi pelagici, tonno e pesce spada, quale sarà la prospettiva e la situazione quest'anno? Allora, per quanto riguarda il tonno, un regolamento comunitario ha fissato a livello di quota nazionale per gli stati membri europei le quote. Per l'Italia, tra virgolette, la soddisfazione, tra molte virgolette, di avere mantenuto la quota dell'anno scorso, 1950 tonnellate circa, il problema è che non c'è invece un'apertura per quanto riguarda l'inserimento delle quote ai palangari e a parte questo, Anapi ha chiesto fin da subito che venga praticamente per quanto riguarda la ripartizione della quota per la pesca sportiva e ricreativa, dato una quota simbolica di una tonnellata e le restante 39 tonnellate vengano assegnate alla pesca professionale per la quota accidentale. Ho capito. Invece il pesce a spada? Pesce a spada praticamente siamo ad una discussione, ad una bozza di decreto dove lo Stato italiano farà in modo di individuare la flotta da autorizzare a tale tipo di pesca che rientra praticamente all'interno di due sistemi, il palangaro e l'arpione. L'arpione sono le famose feluche dello stretto di Messina, i palangari invece sono praticamente la maggioranza delle licenze di pesca e qua ci sarà un'ulteriore riduzione del contingente di flotta perché i criteri che stanno adottando sono criteri che in qualche modo tendono a far venire fuori l'operatività da parte delle imprese senza tenere conto però di alcuni limiti che abbiamo avuto soprattutto negli ultimi due anni per cui è impensabile che ci siano imprese che negli ultimi due anni per motivi vari magari non hanno dimostrato, non possono dimostrare che hanno catturato il pesce a spada se venissero tagliate fuori. Sarebbe un'ulteriore restrizione che andrebbe praticamente a ridurre la capacità di pesca e di reddito dei pescatori. Per quanto riguarda il tonno in qualche modo si tiene conto dell'esperienza che è stata fatta l'anno scorso, cioè non c'è, il tonno non è specie in via di estinzione, non si sta riducendo, tutt'altro. Sì, la cosa strana è che loro lo sanno, l'ICAT in primis che è la commissione internazionale che gestisce lo stock dei grandi pelatici del tonno fra tutti, lo sa perché tra il 2008 e il 2010 ha commissionato uno studio in questi tre anni dove la commissione scientifica dell'ICAT stessa ha verificato che nel Mediterraneo lo stock di tonno non è in sofferenza, è in forte aumento. Il problema è che dietro ci stanno logiche legate alle multinazionali dell'agroalimentare, la Mitsubishi su tutte, che ha fatto di questa risorsa un privilegio per loro, è una sorta di prodotto privilegiato, è di nicchia, ma per loro, tagliando fuori la miriade legata alla realtà di pesca soprattutto artigianale, è legata all'attrezzo del palangaro. La Mitsubishi controlla la grande pesca, i grandi pescherecci giapponesi che pescano nell'Atlantico e in altura? Sì, in linea di massima sì, diciamo che da sola ha circa il 60% dell'intera produzione mondiale del tonno. Ed è chiaro che da un lato ci sta la pesca artigianale, soprattutto i palangari, dall'altro ci sta questo colosso dell'agroalimentare che muove pedine e interessi enormi con i quali noi andremo a contrastare. Senti, c'è stato l'anno scorso quell'episodio di quei tir, di quei camion che sono caduti in mare, per un colpo di mare e che oggettivamente creano non solo un ostacolo per la pesca che sarebbe, volendo anche il meno, ma creano seri problemi di sicurezza per le barche, oltre che problematiche ambientali. A che punto è questa vicenda? La questione, tanto chiariamo subito che la questione è aperta. Ci sono praticamente tre imprese di pesca che hanno fatto una dichiarazione di evento straordinario denunciando l'impigliamento e i danni alla rete, all'attrezzatura in genere e anche alla barca e hanno aperto questo contenzioso con la Grimaldi. Il contenzioso è aperto. Registriamo a fronte di una dichiarazione dell'ARPA laddove subito dopo l'incidente ha verificato che in determinati tratti di mare, Antixanti, Cefalù, Campofelice, c'era praticamente un inquinamento dovuto alla fuoruscita di materiale legato ai tir sommersi, che non è stato comunque fatto nulla né dalla Capitaneria di Porto né da altri organi. E dai responsabili della Grimaldi che sono. E dai responsabili. Siamo comunque in attesa di, come dire, che si apre ufficialmente la prima udienza riguardo a questo diciamo contenzioso. Come sempre grazie per averci seguito. L'appuntamento è per la prossima settimana. Vi ricordiamo quando i comuni informano va in onda. Le date sono e gli orari sabato alle 12 e mezzo in replica alla stessa ora, la domenica, sempre sul canale 19 di Teleone. In una terra baciata dalla passione, il mito si rigenera. Mirella Pipia. Preziosità barocche, sapienza arcana, tripudi di sole e di azzurro. Mirella Pipia. Ceramiche artistiche eseguite rigorosamente a mano anche su commissione. Laboratorio in corso Baldassarre scaduto 67. Nuovo punto vendita in via Domenico Shortino 8 a Bagheria. www.mirellapipia.it